La sicurezza dei punti nascita è un tema su cui la Hasla Butter sta effettuando sempre più formazione di informazione. Il ruolo dei sanitari, soprattutto quando ha contatto con le neomamme e con i loro nascituri, diventa estremamente intrecciato anche alle tematiche psicologiche, fortemente impattanti sul benessere psicofisico dei pazienti. Un ruolo centrale quindi acquisisce la comunicazione, sempre più presente nel background di know-how richiesto ai sanitari. Oggi è una giornata interamente dedicata alla sicurezza dei punti nascita. Intanto si parlerà di quelli che sono i nuovi modelli di governance, ma anche di valutazione e di gestione dei rischi. Quindi modelli integrati di sicurezza, modelli dipartimentali, ma anche formazione e comunicazione che sono degli aspetti fondamentali perché in questo appunto rientra innanzitutto una giusta comunicazione anche all'utenza di quelli che sono i servizi offerti, ma anche la formazione dei nostri professionisti. Siamo in attesa di partire anche in questa azienda con la partoanalgesia. Partoanalgesia che riavvicinerà a questo territorio parte di quelle pazienti che purtroppo sono per una questione di opportunità, sono lì che vanno in centri vicini che sono dotati di questa grande innovazione che ormai conta più di 20 anni, questa grande innovazione che è la partoanalgesia che è un fatto culturale di rispetto delle donne e del neonato, visto che i neonati che nascono da partoanalgesia sono meno stressati di quelli che nascono da un parto fisiologico. Un appuntamento con la formazione caratterizzato anche per l'approccio pratico al tema della sicurezza nei punti nascita, con simulazioni di situazioni di rischio per le mamme e per i neonati. Già da ieri è iniziato un corso, un vero e proprio corso dipartimentale, diciamo così riservato ai medici, alle ostetriche della BAT, dove il dottor Crescini, mediante l'uso di simulatori, quindi abbiamo dei manichini, spiega in maniera pratica a tutto il personale di questa azienda che vede tre punti nascita l'approccio in sala parto sia per la diagnosi di posizione fetale che per l'uso della ventosa ostetrica. Tra l'altro viene anche stressato il problema dell'emorragia del postpartum che riconosce una delle cause principali di morte materne durante il parto. La formazione in realtà viene fatta su diversi fronti, quindi non soltanto per quanto riguarda la corretta presa in carico del paziente, ma anche la formazione professionale per poter essere sempre più pronti a rispondere in sicurezza a quelli che sono i bisogni di salute dei nostri pazienti.